un saluto a tutta la stimata community di vocemoor da gaetano e benvenuti ad un nuovo episodio della serie 3 micro brand che forse non conosci una rubrica che va avanti anche grazie alle vostre segnalazioni quindi non dimenticate qui sotto nei commenti se avete qualche micro brand particolare che volete farmi portare sul canale segnalatemelo qui sotto iscrivetevi mettete un mi piace eccetera eccetera cominciamo subito e cominciamo col botto con questo micro brand che mi ha da subito sorpreso tantissimo ossia straum un micro brand proveniente dalla fredda e desolata norvegia e diciamo la cosa che mi ha colpito particolarmente è la sua strettissima correlazione tra il design dei suoi orologi e la sua terra d'origine andiamo a vedere il modello di punta diciamo del brand che è questo oppav damaskus non so se l'ho pronunciato bene ragazzi ma noterete subito il dial davvero particolare è molto curato molto molto bello eccolo qui che ricorda le superfici ghiacciate della norvegia riporta davvero alla fredda intensa giornata norvegese poi abbiamo un design della cassa molto bello molto particolare con questo stupendo effetto damaskato come potete vedere ecco qui nel dettaglio questo orologio è prodotto con una speciale lega tra acciaio e carbonio se ho capito bene che produce questi effetti particolari sulla cassa davvero incredibili ricordano un po' le venature del legno per intenderci bello 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 non so quante aggiungete voi bello all'infinito abbiamo comunque un movimento swiss made all'interno abbiamo un sell it sv200 quindi un movimento abbastanza di pregio una fattura stupenda magnifica e ovviamente purtroppo abbiamo anche un costo abbastanza importante abbiamo anche il modello lo stesso modello del precedente però senza l'acciaio damaskato quindi ha un prezzo abbastanza più abbordabile ovviamente questi sono tutti i prezzi esclusi spese di spedizioni tasse eccetera però partendo dalla norvegia non credo ci siano dazzi importantissimi comunque questo ad esempio questo qui verde mi ricorda molto le foreste norvegesi questo grande connubio fra il design e la sua terra d'origine che non vedo molto spesso ecco negli orologi solitamente il design degli orologi va sempre a richiamare il vintage va a richiamare delle linee predefinite che conosciamo bene invece in questo caso è un design molto bello molto molto bello e quindi andiamo avanti ed atterriamo a new york per dare un'occhiata a questo stupendo brand chiamato stella watches un micro brand creato a new york nel 2019 da questi due individui appassionati di orologi andiamoci a vedere subito qualche modellino abbiamo già intravisto qualcosa e sono molto belli hanno uno stile molto particolare con questo dial ad effetto tessuto veramente pregevole veramente bello questo è il modello felix guardate le rifiniture come sono interessanti come sono particolari la cassa è molto bella il movimento all'interno è un stp se non erro molto ben lavorata anche particolare il bilanciere ci sono qui poi le varie colorazioni molto bella questa qui col nero e gli inserti blu ricordano un po uno stile sovietico però uno stile lo sovietico un po più moderno più aggiornato mi piace davvero tanto per particolare anche la data dure 3 che è integrata bene piccola e non da particolari fastidi la corona forma rubinetto anni 80 mi soffermerei anche sulla versione rossa che sapete che io ho una perversione per i dial rossi molto bella poi diciamo che ha delle caratteristiche interessanti 40 mm di diametro cassa 13 mm di spessore abbiamo il movimento stp come vi dicevo c'è anche la versione con il bracciale che sembra davvero ben fatto chiudiamo anche con questo meraviglioso gmt guardate la la trama della dial com'è bella sembra quasi la pupilla di un felino l'occio di un gatto un qualcosa che mi attrae particolarmente il movimento è un gmt sellita sempre sv330 il costo in questo caso è un pochino più alto ma è dovuto comunque anche alle funzioni interne del gmt e devo dire sembrano davvero ben fatti e interessanti molto molto particolari ma andiamo avanti e arriviamo all'ultimo micro brand di questa piccola selezione odierna ossia relio o relio che dirsi voglia watches che nasce dalla mente di leandro fernandez e anéis berges che ci spiegano come questo brand abbia rappresentato per loro una sorta di rinascita dalle loro precedenti diciamo vite lavorative sono riusciti a sfociare in un ambiente lavorativo che loro amano la loro passione e per questo il logo della della compagnia è una fenice quindi simbolo di rinascita ma andiamo avanti lasciamo perdere queste cose piuttosto new age per vedere un po gli orologi che la ciccia la cosa che ci interessa il modello di punta è il solstice un orologio molto bello molto ben fatto come potete vedere dalle immagini una cassa interessantissima un orologio bello massiccio con delle ottime rifiniture chiusura ben fatta un'ottima luminosità interessante poi il movimento che è un miota serie 9000 quindi ci dà delle specifiche di tutto rispetto con delle dimensioni di 38 mm addirittura 11,9 mm di spessore quindi davvero quasi un quarzo al suo interno una resistenza all'acqua di 100 metri un orologio davvero interessante e molto bello esteticamente poi offerto soprattutto ad un prezzo davvero molto molto appetibile ecco perché comunque 400 dollari ovviamente escluse tasse dazi eccetera credo si arrivi a un 5 600 euro però con queste caratteristiche un orologio piccolo compatto molto molto bello vi faccio vedere anche la versione rossa come al solito la mia preferita bel rosso degrade che sconfina in questo nero profondo bello 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 davvero e terminiamo anche con questa versione questo verde mare molto interessante una bella selezione di colori se devo dire la verità mi piace davvero tanto bene ragazzi il video finisce qui è stato un video molto breve vi ho presentato questi tre micro brand ognuno molto interessante particolare modo suo fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito quale vi è piaciuto di più iscrivetevi al canale lasciatemi un commento per farmi conoscere qualche altro micro brand iscrivetevi anche al mio profilo instagram mi raccomando è sempre molto importante e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao ciao a tutti ciao a tutti